Ciao ragazzi, un nuovo video, oggi vi ancora ho che è successo oggi. Allora, oggi vi è successo, mi arriva un messaggio su Instagram e mi arriva un messaggio che ho qua signore, che ho qua. Adesso ve lo leggo subito, ciao Blue, le due canzoni sono belle e il volume da zero, io gli ho detto grazie, poi mi ha detto una cosa che in privato mi ha detto quando fai un cd. Allora, ragazzi, se io lo vediamo, lo vediamo come questa ragazza che cerco io a fare le ragioni e lo vediamo. Con avere ancora, con avere anche i giochi, i programmi. Allora, il cd non lo so, il cd avrei ancora quale portare, un cd buono. Ehm, un cd buono, come si chiama, il cd, eh, cioè, che va ancora 6 in cd, eh, come si chiama il cd, poi, velo, velo di quando è 6 cd, il cd, il cd, il cd, il cd, il cd. si chiama, il cd, il cd, il cd, il cd, il cd, i playlist, il cd, o fra pochi giorni e lo gaat, ve lo faccio sapere poi quando, quando lo v anche su Amazon, dove ho avviato una ricorsa un pochissimo avviato, e fare altri foto quando prendere anche il cd se volete, fare le foto, mandatemi le foto su Instagram che avrei preso il cd, e niente, vi ho detto questo, il cd arriva forse 224. Niente, vi ho detto questo è una cosa brutta, però io vi ho detto che arriva il 24, il 24 è scena a fuma, quindi niente, vi ho detto questo perché mi sono fermato prima, perché mi sono fermato prima, vi ho detto che mi sono fermato noi, ma ciao signori.